Noi non vogliamo fare solo il ricordo delle persone morte, dei giudici morti, ma vogliamo anche, ed è quello che facciamo andando all'Avvocato di giurisprudenza, sostenere e manifestare la nostra avvicinanza ai giovani vivi, ai giudici vivi. Partiamo da Via Lamello perché questo è un luogo che per noi è sacro, è un luogo da cui parta la nostra memoria. La dove il cielo sposa il mare, dove l'uomo non sente dolore, dove nasce un altro sogno, il sole che ti sorriderà. Là, sulle spiagge del futuro, dove il grano è già maturo, dove è un fuoco più sicuro, dolce, ti scalderà. Oh, the ghost of freedom, wonderful warriors, died for liberty. Fantastici, uomini liberi, morti per dare alla storia una parte di dignità. Fantasmi chiari, grandi guerrieri, figli della libertà, nei secoli, oltre i pericoli, morti per dare alla pavola gente, la felicità. La mafia è stata un'attività, la mafia, 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 la Nando, Nando! Dato Stato! Noi! Dato Stato! Bocchi! Dato Stato! Dato! 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 Siete voi! Il vero Stato! Di Matteo! Di Gloria Scanpinato! Siete voi! In Italia! E non di cosa nostra! D'Italia è nostra! E non di cosa nostra! l'Italia è nostra! E non di cosa nostra! L'Italia è nostra! Vabbè, ce l'abbiamo qua. Allora, è una questione di parlare, è una questione di ricordare a Palermo perché veniamo da tutta Italia qui una volta l'anno per stare vicino ai palermi d'Italia e l'Italia di vita a questa città e al paese luglio, che ci sono 9 luglio, per tutta Italia come questo è importante e allora è giusto scendere e venire a marciare con noi. Siamo qui, siamo venuti da tutta Italia, c'è bisogno del nostro e del vostro affetto. Paolo voleva questa città rinascere e anche noi la vogliamo far rinascere, ecco perché ogni anno noi ritroviamo il nostro affetto. Quest'alba è particolare, lo rinnoviamo anche a tutti quei magistrati che vengono attaccati quotidianamente nel loro lavoro e siamo qui per stare vicino anche a Di Matteo e a Di Matteo. Palermo è nostra e non di cosa nostra! Palermo è nostra e non di cosa nostra! Magistrati come Ingoia, scafinato di Matteo, la procura di Palermo vengono attaccati dai poteri che hanno paura che le stragi del 92 e 93 facciano capire dove stanno i veri colpevoli. Noi siamo qui a difendere quei magistrati e ricordare a chi crede che Paolo Borsellino è morto, che non è così! Paolo è vivo e notte insieme a noi! Paolo è vivo e notte insieme a noi! Le sue idee non moriranno mai! Paolo è vivo e notte insieme a noi! Le sue idee non moriranno mai! Paolo è vivo e notte insieme a noi! Le sue idee non moriranno mai! Paolo è vivo e notte insieme a noi! L'Italia è nostra e non di cosa nostra! E allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sai anche camminare, contare e camminare senza cantare! Paolo è vivo e notte insieme a noi! La storia di Pettine e degli amici di Sicilia! Perfetto a tutti insieme a noi! Perfetto alla maniera e voce di farce che si ci riesci! Perfetto alla maniera e voglio credere le singele disegirà! branding, come... Garra a tutti insieme a noi che取e in Brande e noi che ricordano lo servire! E alla ghierla! Resistenza, 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 resistenza! Invece le morte due sono stragi di Stato, però se non Stato è un assassino il popolo è complice, perché siamo noi, siamo noi cittadini che dobbiamo urlare la nostra rabbia e soprattutto siete voi palermitani che dovete scendere in piazza con noi! Siete voi per primi, noi siamo qui da tutta Italia perché Paolo Postellino è stato ucciso dallo Stato, la mafia è stato lo strumento attraverso cui lo Stato l'ha voluto ammazzare, ecco perché noi siamo qui da tutta Italia, però palermitani svegliatevi, uscite da questa amertà, scendete in piazza con noi e gridate la voce! Grazie!